La tania terracina è l'ultimo atto di una regular season che ha già decretato con un turno d'anticipo il secondo posto dei rossazzurri alle spalle dell'imbattuto Pisa. Marcelo Mendes che non può contare sull'acciaccato B Martins può ritenersi però soddisfatto della crescita dei suoi ragazzi in vista della race finale che ha nel mirino Coppa Italia Final 8. Passiamo alle immagini del match che viene sbloccato come con Napoli e con Nettuno dopo nemmeno un minuto. Destro al volo potente di Ozu Moreira che riceve da Battini e coglie l'angolino alla destra di Elliot. Da vedere e rivedere la conclusione mortifera dell'asso nipponico che ha già marcato tre volte il tabellino. Rossazzurri che provano a legittimare con una conclusione da fuori ad opera di Borer che impegna Elliot in angolo. Terracina che ha la prima azione però perviene al pareggio. Rovesciata di Rafael che va a baciare il palo alla sinistra di Battini e che si insacca per la rete dell'1-1. Un'autentica prodezza del 19 brasiliano che al quarto minuto rimette il match in equilibrio. Etenei che rialzano subito la testa. Rovesciata di Zurlo risposta a mani aperte di Elliot. Rossazzurri ancora insidiosi con Zurlo abile a riconquistare la sfera e a guadagnarsi il calcio di rigore che viene però respinto da Elliot con un tuffo prodigioso alla sua destra. Primo tempo chiuso in parità. Nel secondo a spaventare Paterniti sarà il collega Elliot, grande risposta di Paterniti in volo d'Angelo. Catania che però opera il sorpasso, Fred che triangola con Zurlo e calcia con una puntata che lascia di sasso Elliot per la rete del 2-1. Primo gol in campionato per Fred, decimo marcatore tra le file rossazzurre che provano a chiudere la partita a 44 secondi dalla fine del secondo periodo con San Filippo che in avvitamento basso firma il 3-1. Non fa drammi il Terracina che ha bisogno di 6 secondi per rientrare in partita. Con il colpo di testa di Belardinelli bravo a correggere il tiro cross di Duarte anche se c'è il forte dubbio che il pallone abbia valicato completamente la linea. Catania che prova a chiudere il conto, acrobazia di Zurlo, San Filippo a due passi da Elliot mette a lato un comodo tap-in. Una nuova opportunità per i rossazzurri con Paterniti per Ozu, assist per Borer che in semi rovesciata manda di un metro a lato. Giunti quasi allo scadere però c'è il tempo per mettere il sigillo al match e per Zurlo, steso da Elliot, la possibilità di cancellare il rigore fallito in apertura. Dal dischetto Zurlo firma il 4-2, 200, due reti rossazzurro con Totuso almeno in regular season, visto che Catania e Terracina si riaffronteranno ironia della sorte venerdì 5 agosto per una gara che a Cagliari varrà molto di più dei tre punti che Catania ha comunque meritato anche a conclusione di questa tappa via regina. Grazie 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 Grazie